Ciao a tutti, mi chiamo Chiara Caimano, ho 14 anni, vivo a Colombarone, in provincia di Pesaro, nelle Marche. Conosco già la storia di Chiara Luce, la conosco da quando sono piccola e mi è sempre piaciuta, insomma ho sempre trovato che fosse una ragazza molto forte ed è per questo che partecipo a questo concorso per esprimere tutta la mia ammirazione per questa ragazza e ho già partecipato l'anno scorso portandovi una parte recitata. Io appunto recitavo perché è una mia grande passione, un'altra mia grande passione invece è quella di scrivere e me la cava anche abbastanza bene. Infatti quest'anno ho partecipato scrivendo un testo, parlando in questo testo di una ragazza, della sua vita, di come sia drasticamente cambiata grazie a delle scelte sbagliate che ha fatto e parlo anche di un tema molto attuale che è quello della violenza sulle donne, sempre più attuale come tema e parlo di come la storia di Chiara Luce abbia influenzato la sua vita, di come l'abbia dato la forza di continuare a vivere, di farlo al meglio e quindi di come sia stata fondamentale per la sua vita la storia di Chiara Luce, aver fatto la sua conoscenza.